E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Team Cup. C'è il Torino sulla strada della Juventus che cerca una vittoria per difendere il titolo conquistato nelle ultime tre stagioni. Diciottesimo derby di Coppa che vale le semifinali dove c'è già l'Atalanta ad aspettare la vincente di questa sfida. Amici sportivi, buonasera da Gianluca Prudenti e benvenuti a Juventus Torino. Gara valida per i quarti di Team Cup. Fischietto in bocca e allora si comincia, è iniziato il derby della Mole. Sturaro, manca il pallone. Attenzione allora alla conclusione. Ciabattata da Berenguer che ha avuto sul mancino il pallone dell'1-0. Si accentra Samoa, poi cerca di bala, controllo così così. Pallone buono per Douglas Costa! La Juventus è in vantaggio! 1-0 in favore dei bianconeri. La sblocca Douglas Costa dopo un quarto d'ora di gioco esatto. E' 1-0. Ancora per Douglas Costa, buono l'aggancio, buono anche il pallone per Di Bala. Di Bala entra in aria, è solo. Di Bala! Alto! Niang! Prova lui il tiro! Palo di Niang! Che partita allo Stadium! Torino vicino al pareggio! Chiellini. Va dall'altra parte dove c'è Douglas Costa che entra bene in aria. Douglas Costa all'indietro di Bala! Milinkovic-Savic salva il Torino! Di Bala. Si accentra Di Bala, prova il tiro! Sul fondo! Si riparte con il Torino che muove il primo pallone del secondo tempo. Douglas Costa, posizione regolare, cross in mezzo, basso! E questa volta Mandzukic tivore il 2-0. Douglas Costa. Dentro per Di Bala. Cross in mezzo! E la Juve sfiora ancora il raddoppio con Matuidi. Il pallone sfiora il palo e termina sul fondo. Tutto ok secondo l'arbitro. Palla per Mandzukic, tocco sotto! Era doppio Juve! 2-0 in favore dei bianconeri con il gol di Mario Mandzukic. Var, e allora si va a vedere il monitor. E' gol ed è anche rosso per Mijailovic. Che non si dà pace. Poi qui Di Bala. Per Mandzukic, posizione assolutamente regolare. Tocco sotto e palla in gol. Douglas Costa, uno contro uno, le finte. Douglas Costa dentro per Di Bala. Pallone sul mancino! Prova a chiudere l'angolo di tiro. Non è il solito Di Bala. Entra qui, c'è Higuain in aria. Higuain si accentra. Higuain cerca spazio per il tiro. Milinkovic. Ferma tutto. Non c'è più tempo. L'arbitro fischia tre volte. E dice che la partita finisce qui. Juventus batte Torino. 2-0. I bianconeri volano in semifinale di Team Cup. Dove troveranno l'Atalanta.